Materia, italiano, argomento, Giacomo Leopardi, vita e pensiero Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Agatic. Oggi parleremo insieme di uno degli autori più importanti della letteratura italiana e non solo, Giacomo Leopardi. Ricordate che in questo video non sarò la vostra insegnante, sarò semplicemente la vostra compagna di banco. Partiamo subito. Giacomo Leopardi nasce a Recanati nel 1798 e muore a Napoli nel 1837. In primis la cosa che balza subito all'occhio è la brevità della sua vita. Leopardi morì giovane a soli 38 anni, quindi caratteristica peculiare di tutto il suo pensiero è la giovinezza. Inoltre dove nasce? Nasce a Recanati, un piccolo paese delle Marche sotto il dominio dello Stato Pontificio, quindi non solo comunque era un paesino, quindi distaccato dalle correnti letterarie all'avanguardia, da tutto ciò che poteva arrivare dall'Europa. Ovviamente parliamo di Recanati, non ad esempio di una Milano. Inoltre appunto essere sotto lo Stato Pontificio ha aggravato ancora di più questa situazione perché c'erano delle restrizioni ancora più forti. Tutta la sua breve vita si concentra nel periodo più buio della restaurazione. Si potrebbe pensare quindi che questi fattori abbiano rappresentato degli ostacoli. In realtà poi se andiamo a leggere il suo pensiero, le sue opere, capiamo che Leopardi può essere benissimo annoverato tra gli autori più all'avanguardia del suo tempo. Nonostante tutto il suo genio individuale è stato in grado di superare tutti gli ostacoli che si sono posti nella sua vita o comunque ostacoli che per una persona ordinaria sarebbero stati insormontabili. Perché possiamo definirlo un autore moderno, all'avanguardia, uno dei più importanti nel panorama europeo e non solo circoscritto alla realtà italiana? Per due motivi fondamentali. Il primo è perché Leopardi è un poeta pensante. Non si limita semplicemente a cantare le sue opere ma esprime il suo punto di vista che è molto forte, molto molto critico vedremo per quanto riguarda la società del suo tempo. Il secondo motivo per cui definiamo Leopardi un anticipatore della piena modernità è il fatto che in tutte le sue opere punto cardine sia l'espressività del linguaggio. Torniamo alla sua vita. Il padre era un bibliofilo, aveva una biblioteca enorme, fu l'aspetto positivo di quella famiglia. Pensate che a soli 15 anni parlava e traduceva benissimo in latino e in greco. Infatti in un primo momento fu portato verso la carriera filologica. Per quanto riguarda la madre invece, la madre era molto molto religiosa con un'accezione però negativa. Sia Recanati sia la sua famiglia rappresentarono per Leopardi una croce immensa. Un importante incontro nella sua vita avviene nel 1817 con Pietro Giordani. Era un classicista dalle dei liberali. Pensate, questa è una piccola curiosità, che per incontrarlo Leopardi uscì ovviamente di casa per recarsi nelle strade di Recanati e fu la prima volta in 20 anni. Nel 1819 decide di scappare. Non ci riuscì. Lì avvenne proprio la frattura definitiva con la famiglia, abbandona completamente la fede familiare, quindi abbiamo la sua conversione filosofica. Nel 1822 finalmente Leopardi riesce a uscire da Recanati per recarsi a Roma e ha l'opportunità di vedere una grande città. Leopardi inizia a criticarla sotto ogni punto di vista. È molto molto significativo il fatto che lui per tutta la vita abbia cercato di allontanarsi da Recanati. Quando poi va in un'altra città, adesso Roma, poi andrà anche a Firenze, a Pisa, comunque avrà sempre delle parole di critica nei confronti di queste città, perché hanno allontanato l'uomo sempre di più dalla natura, dalla natura pura, senza contaminazioni. Quindi è vero che critica aspramente Recanati, ma è anche vero che è il promotore numero uno della provincia. Si è mantenuto in maniera più limpida un rapporto con la natura diretto. Dopo varie vicissitudini torna a Recanati per poi abbandonarla definitivamente e trasferirsi a Napoli. In quel periodo era già gravemente malato, infatti morì appunto giovanissimo. Leopardi non può essere definito romantico al 100% o un classicista. Lui stesso in una lettera dirà il suo pensiero per quanto riguarda il classicismo e per quanto riguarda il romanticismo e la sua posizione sta praticamente nel mezzo, perché è fondamentale per Leopardi rifarsi agli antichi, perché gli antichi erano coloro più a contatto diretto con la natura, più puri, dove il progresso ancora non era arrivato. D'altra parte però non si basa semplicemente sulla traduzione sterile dei classici, ma fa un passo in avanti molto importante. Lui vuole ricostruire uno stato d'animo, uno stato di purezza, di freschezza ed è lì che entra in campo la sua parte romantica. Fondamentale per lui fare però una differenza tra il sentimentale, che come è definito da lui stesso patetico, dei romantici con invece il sentimentale puro e fresco invece degli antichi. la grande capacità che ha avuto Leopardi è quella di aver trasformato il dolore in motore, uno stimolo alla conoscenza, uno strumento per approfondire la realtà e non un ostacolo e questa è una grande cosa ragazzi. Il trasformarlo in qualcosa di universale l'ha reso unico. È vero che lui al centro del suo pensiero ha ammesso l'infelicità dell'uomo, quindi è partito da un aspetto ovviamente pessimistico, ma non si è lasciato sopraffare dal suo dolore individuale. È stato sempre molto molto lucido, anzi quel dolore le ha dato la chiave di lettura, una chiave di lettura razionale, anche perché lui stesso dice che la ragione, come invece affermavano gli illuministi, non porta alla felicità più conosco e più mi rendo conto di quanto non potrò mai arrivare alla felicità eterna. Per partire dall'infelicità dell'uomo, Leopardi parte dalla teoria del piacere. La teoria del piacere si basa appunto sull'assunto che l'uomo non aspira a un piacere, ma aspira a il piacere, che sia di fatto infinito. E ovviamente la prima cosa che dice Leopardi è che per l'uomo è impossibile, perché già il solo fatto di avere una vita che abbia un inizio e una fine ti porta solamente per questa ragione qua a non essere felice per sempre, quindi la felicità è un'illusione. In un primo momento Leopardi vede la natura come una madre amorevole, la natura benigna, che sta attenta al bene delle sue creature. Quindi in questo caso è l'uomo che attraverso il progresso si è allontanato dalla natura benigna, quindi ne fa una colpa dell'uomo, anzi ne fa una colpa proprio del progresso, della modernità. Quindi abbiamo un tipo di pessimismo storico. Leopardi però si rende conto che questa natura non è poi così benigna e benevola, perché il suo unico scopo è quello della sopravvivenza della specie. Perciò l'uomo è soltanto una vittima, non è più il costruttore di questa infelicità. Perciò subentra il pessimismo cosmico. L'infelicità è una condizione assoluta. Come può quindi l'uomo cercare di superare questa sofferenza e avvicinarsi in qualche modo, sempre in maniera illusoria ovviamente, perché lui parte sempre dal presupposto che la felicità è irraggiungibile, però trova diciamo un rimedio a questa sofferenza, come con la teoria del vago e dell'indefinito. Quindi cercare di raggiungere i piaceri infiniti attraverso l'immaginazione, perché l'immaginazione non ha limiti. Tutto ciò che è lontano e ignoto. Elabora due teorie, la teoria della visione e la teoria del suono. La teoria della visione è data dalla rappresentazione di un'immagine visiva, di un apparente ostacolo, che ci permette di andare oltre con l'immaginazione. Quindi il solo fatto di superarlo ci permette di aprire la nostra mente e i nostri orizzonti. La teoria del suono invece si basa su suoni che sono suggestivi appunto perché sono vaghi. Un altro rimedio è dato dalla rimembranza, quindi c'è l'unione tra l'immaginazione e la rimembranza. Perché la rimembranza? Perché quando si è piccoli, quando si è fanciulli, si è più portati a vedere il mondo senza intrusione esterna e senza progresso. Quindi i bambini sono coloro che si avvicinano di più alla mente degli antichi, proprio perché sono privi di costruzioni mentali. Ragazzi, per oggi è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e ovviamente di seguirmi anche su Instagram, mi trovate con il nickname Agatich. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima su Agatich. Ciao ciao!